Una buona serata e benvenuti nello spazio informazione di Seila TV, come di consueto il riassunto con le notizie più importanti della giornata. Corsa a Palazzo Frizzoni, Pezzotta sostiene Boccaleone per ridurre l'impatto del treno. Da carnevali 12 punti per aumentare la sicurezza. Gravi incidenti a Covo e Casazza, 4 feriti, tutti ricoverati in codice rosso. Tarlo asiatico, la diffusione prosegue. Dopo Bergamo e Treviolo, l'insetto intacca anche la vegetazione di Curno. Città Alta, il 4 maggio apre il parking Fara, rivoluzione per Sosta, ZTL e viabilità dentro le mura. Atalanta, domenica pomeriggio torna il campionato, le ultime da Zingogna prima dell'insidiosa trasferta a Cagliari. Iniziamo con un'ampia pagina dedicata alla politica alle amministrative 2024. Pezzotta, con l'aiuto del ministro Calderoli, si occupa del collegamento tra l'aeroporto di Orio e Boccaleone, con delle nuove proposte. La ferrovia tra l'aeroporto e la città è un'opera che farà bene a Bergamo, ma certamente bisogna migliorare il progetto. Dove si può intervenire, lo si deve fare. Questo è in estrema sintesi il messaggio che ha voluto lanciare il candidato sindaco Andrea Pezzotta insieme al ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, presente oggi per sostenere le proposte di intervento. Di cosa si tratta? In primo luogo della costruzione di una seconda passerella ciclopedonale all'altezza del passaggio a livello di via Pizzore-Castello a Boccaleone, nel momento in cui lo scavalco dei binari verrà interdetto per l'avvio dei lavori del treno per Orio al Serio. La passerella sostituirebbe il previsto sottopassaggio, con la soddisfazione del comitato di quartiere da sempre scettico riguardo il sottoterra ritenuto pericoloso. Un cambio di progetto che secondo i tecnici costerebbe anche meno di quello approvato. Il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi si è già espresso sul sollecito di Calderoli. RFI ha espresso la disponibilità di massima di valutare la fattibilità tecnica di soluzioni alternative, ha chiosato Rixi, purché tutti i soggetti coinvolti siano d'accordo. Obiettivo per tutti, l'incontro a fine aprile. Altra soluzione migliorativa è abbassare i pannelli fonoassorbenti, ha chiosato Pezzotta. Non può diventare un muro di berlino, dove il treno non va veloce si può studiare qualcosa di meno invasivo. Ed è stata presentata anche la lista civica proprio del candidato del centro-destra Andrea Pezzotta. Veramente civica per riportare le persone al voto, ha tenuto a ribadire il candidato sindaco del centro-destra Andrea Pezzotta, che ha presentato 17 uomini e 15 donne componenti della lista che appoggerà la corsa per le elezioni amministrative della città, in programma l'8 e il 9 giugno, in concobitanza con quelle europee. La novità è l'assenza di un capolista vero e proprio, ma di un gruppo di persone che hanno interessi e competenze, perché il sindaco, afferma Pezzotta, non è un tuttologo. Otto le aree tematiche per altrettanti gruppi di lavoro per la città. Bergamo è una città che ha bisogno di uno scatto in avanti, con delle scelte fatte nell'interesse dei cittadini e non di natura ideologica per puro spirito di partito. E' la sua percezione. L'idea è la presenza dell'esercito, ma non solo. E' facile focalizzare sul centro, in quanto è sul centro e sulla zona della stazione, che è maggiormente evidente questo stato di degrado. Però non dobbiamo considerare Bergamo solo centro, solo stazione, ma tutta la periferia. Noi come Associazione Nazionale Carabinieri siamo disponibili e facciamo già delle pattuglie in collaborazione con la polizia locale. Si tratta di incentivare e incrementare questo tipo di servizio e supporto delle forze di polizia. Altro tema importante, la vivibilità e la sostenibilità. Il tema della sostenibilità e della vivibilità è centrale per una città come Bergamo, che fa della qualità della vita la sua cifra prevalente. Dobbiamo convivere con la mobilità, la capacità di spostarci, ma la salvaguardia dell'ambiente è altrettanto importante. Nuovi equilibri. Gli altri gruppi di lavoro tratteranno l'argomento giovani, la fragilità e l'inclusione, cultura e turismo, commercio e lavoro, famiglia ed infine lo sport. Abbiamo bisogno di essere vicino al mondo dello sport, che non è solo quello delle grandi squadre, a cui tutti siamo affezionati e guardiamo con interesse, ma anche le realtà di base del territorio, agli oratori, a chi fa lo sport di base, alle famiglie, a tutti coloro che lo praticano per prendere regole, per sapere stare insieme alle altre persone, per fare integrazione. Quindi contributi, vicinanza, sussidiarietà e soprattutto un grosso intervento sulle strutture di base su cui giocano i nostri ragazzi. Cambiamo Spon, andiamo sul centro-sinistra. Elena Carnevali affronta il tema sicurezza, 60 nuovi agenti per migliorare la situazione in città. 12 punti per rendere la città più sicura. È un documento trasversale quello presentato da Elena Carnevali, candidato sindaco per il centro-sinistra Bergamo, che abbraccia il tema sicurezza sotto tutti i punti di vista. In primis, l'aumento di agenti della polizia locale. Ne verranno assunti 60 in 5 anni per portare a 210 le forze in campo che verranno distribuite per rimpolpare il NISU, il nucleo preposto per gli interventi in materia di sicurezza urbana, per aumentare le unità mobili di quartiere, che diventeranno tre, e per mettere in strada 20 agenti che presideranno il territorio a piedi. Polizia, ma non solo, anche riqualificazione urbana, videosorveglianza, illuminazione, incentivi ai commercianti per dotarsi di strumenti anticrimine. E poi la questione sociale, particolarmente curata da Carnevali. Questo fenomeno dei giovani, per esempio, che va indagato, va conosciuto, ma dove dobbiamo mettere in campo soprattutto delle attività di carattere educativo. Ma penso all'area della marginalità, la povertà che esiste sul nostro territorio. Quindi la capacità di mettere in campo anche azioni di accompagnamento nei presidi che esistono, che abbiamo implementato e che continueremo ad implementare, proprio per fare in modo che la sicurezza voglia rappresentare la possibilità di vivere le nostre strade, le nostre piazze in modo sicuro. Accanto alla candidato sindaco, l'attuale assessore alla sicurezza Sergio Gandhi. Sarà lui ancora in questo ruolo in caso di vittoria del centro-sinistra? I due protagonisti hanno glissato, ma Gandhi ha assicurato circa la difficoltà nel reperire nuovi agenti. Anche le ultime assunzioni che abbiamo effettuato senza un particolare sforzo di reperimento sul mercato del lavoro, testimoniano che l'interesse per la polizia locale c'è. L'importante è riuscire a selezionare agenti ufficiali idonei alle funzioni che devono svolgere. Però vedo che c'è tanta passione anche da parte dei tanti giovani che in questi anni, soprattutto in questi ultimi mesi, abbiamo inserito nel corpo e questo mi lascia ben sperare. Passiamo alla cronaca. Grave incidente tra due auto questa mattina, poco dopo mezzogiorno a Covo. L'impatto è avvenuto sulla provinciale 102 in zona Cascina-Finaletto e ha causato il ferimento di tre persone, tutte soccorse in codice rosso. Si tratta di una donna di 85 anni alla guida di un'utilitaria e di due uomini, 28 e 49 anni, a bordo di un'altra macchina. I due veicoli sono finiti fuori strada, uno dei due si è ribaltato su un fianco. Per estrarre l'anziana dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora incidente, un uomo di 62 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente avvenuto a Casazza, lungo la statale 42. L'uomo di 62 anni era a bordo del suo scooter e stava uscendo da un distributore di benzina quando è stato urtato da un'automobile. Necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato al Papa Giovanni in codice rosso l'infortunato. La statale 42 è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora in entrambe le direzioni. Cambiamo argomento, un uomo di 77 anni è stato condannato a 8 mesi con pena sospesa e non menzione con l'accusa di uccisione di animale e tentate lesioni volontarie. L'episodio era avvenuto a Foppolo il 4 febbraio del 2018. Il 77enne avrebbe investito volontariamente il cucciolo femmina Jun Doberman di nome Eva e cercato di travolgere anche il suo proprietario, un 39enne milanese di Inzago. Il cane, 4 mesi, era fuggito ai padroni del raccorso in strada sulla quale stava sopraggiungendo il fuoristrada con alla guida appunto il 77enne. Di qui era nato un diverbio tra l'automobilista e il proprietario del cane. Poi l'imputato era ripartito verso casa investendo appunto l'animale. Secondo il giudice un gesto volontario. Il giudice stesso ha riconosciuto alla parte civile un risarcimento provvisionale di 3.000 euro. Tarlo asiatico, un male che sta colpendo le piante, gli alberi della Bergamasca dopo altre zone, Bergamo, Treviolo, ora la zona di Curno. L'invasione del tarlo asiatico si sta rivelando una piaga per il nostro territorio. Alla roncola, nell'area adibita la raccolta di tutto il materiale infestato, tagliato e accatastato per procedere alla distruzione, la montagna di legna cresce a vista d'occhio. Rami, tronchi, fusti eradicati per essere cippati. Non c'è scampo. La normativa prevede che il legno dove abbiano nidificato le larve debba essere distrutto e non riutilizzato per evitare potenziali recrudescenze dell'infestazione per la presenza di uova del coleottero. A Curno si stanno abbattendo altre centinaia di piante per contrastarne la diffusione. Le operazioni stanno interessando sia le aree verdi pubbliche che i giardini privati. Si tratta di un'ampia zona ovest del paese, in particolare alcune aree agricole e residenziali che si sviluppano vicino alle Via Brembo e Lungo Brembo, ma anche Via Padre Sala e una porzione dell'area adiacente alla zona commerciale tra Via Fermi e l'assentero urbano. Gli alberi risultano già abitati dall'insetto oppure appartenenti a specie a rischio infestazione nell'arco di 100 metri dal focolaio individuato. Aceri, ipocastani, betulle, pioppi, salici e olmi i più sensibili. Il tarlo asiatico è in grado di diffondersi e moltiplicarsi rapidamente e per questo rende necessaria la distruzione delle piante contagiate e l'adozione di misure fitosanitarie obbligatorie. L'abbattimento e la ripiantumazione con una pianta di una specie più resistente all'insetto sarà a carico di Regione Lombardia. Il 4 maggio apre il Parking Farah, un progetto tanto discusso e con tanti anni di realizzazione. Apre e stiamo attenti tutti alle nuove ZTL, alle nuove sosta sulla mura. Il Parking Farah aprirà il 4 maggio. La struttura, molto discusso in questi anni, rivoluzionerà anche la sosta e l'accesso a città alta, come ha comunicato ieri l'assessore comunale alla viabilità Stefano Zenoni. La ZTL estiva è entrata intanto in vigore ieri sera con le telecamere che si accenderanno, oltre alla domenica nei consueti orari, anche giovedì, venerdì e sabato, dalle 21 alle 1 di notte. A proposito di ZTL, lo storico varco in viale Vittorio Emanuele verrà abbassato alla rotonda della Galleria Conca d'Oro per evitare disagevoli inversioni di marcia e ne viene posto uno nuovo all'incrocio tra Via Locatelli e Via Brigata Lupi. Per i residenti non cambierà nulla, avranno permessi come per chi abita dentro le mura. Una volta aperto il Parking Farah, i non residenti potranno accedere a città alta anche negli orari di apertura della ZTL, ma solo se poi parcheggeranno entro mezz'ora o nel nuovo parcheggio oppure in quello di Via Trearmi o ancora nell'area di parcheggio di Porta Sant'Alessandro. Cambia però anche la viabilità. In Via Brigata Lupi si inverte il senso di marcia, con la possibilità di svoltare a sinistra davanti al nuovo varco di Via Locatelli e poi mettersi su Via Zelasco per parcheggiare al San Marco. Quindi le soste, tutti gli stali lungo le mura passeranno da blu a gialli, ovvero destinati esclusivamente ai residenti. Novità che arriveranno dal 4 maggio, contestualmente all'apertura del parking. 2030, obiettivo zero emissioni e c'è anche un portale per seguire la corsa contro il tempo per arrivare a questo obiettivo e centrarlo. Si è tenuta questa mattina a Palazzo Frizzoni la conferenza di presentazione del Climate City Contract. Anche Bergamo, insieme ad altre 111 città scelte dall'Unione Europea, è impegnata nella riduzione delle emissioni di CO2. Dal 2005 ad oggi, la città aerobica ha già ridotto la produzione di emissioni del 37%. È una scommessa che condividiamo con altre otto città italiane, altre 111 città europee. Abbiamo firmato oggi un contratto con la Commissione Europea che ci ha selezionato tra le città migliori da questo punto di vista e abbiamo messo insieme, questa è la cosa importante, una grande alleanza territoriale. Non è il Comune di Bergamo, che ovviamente non potrebbe fare molto per ridurre le emissioni da solo. Sono 41 stakeholder, soggetti pubblici, privati di questo territorio che hanno ben chiaro qual è l'obiettivo. L'obiettivo da raggiungere entro il 2030 è quello di azzerare le emissioni di CO2, una sfida molto ambiziosa, quella della transizione ecologica, che richiede la messa in atto di strategie e di azioni concrete. Per salvare l'ambiente, in questi sei anni, sarà dunque necessario puntare sulle città attraverso iniziative e politiche green che interessano diversi settori come trasporti, edifici, industria e agricoltura. Per conseguire l'obiettivo della riduzione della CO2 equivalente in ambito urbano abbiamo insieme a questi 41 soggetti previsto delle schede di azione, sono facilmente consultabili e descritte con linguaggio accessibile per tutti i cittadini sul nuovo portale. Ogni azione è qualcosa di concreto, ci sono nuove infrastrutture, ci sono processi di efficientamento ed ognuna è quantificata in modo da poter conseguire questo ambizioso, direi ambiziosissimo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Parliamo ora del teatro Donizetti, uno dei luoghi della cultura più importanti di Bergamo, in Bergamo città ma anche in tutto il territorio, che chiama a raccolta i mecenati. In un decennio il teatro Donizetti ha raccolto 15 milioni di euro dai donatori privati, che in media donano tre volte di più rispetto ad altre città italiane. Eppure a fronte di una riduzione dei finanziamenti pubblici, c'è bisogno di un maggior sostegno alla fondazione. Da qui la chiamata alla città per unire le forze nel nome della cultura, rivolgendosi ai suoi mecenati. 74 i cosiddetti ambasciatori, uno in più delle opere di Gaetano Donizetti, a cui con diversi contributi è stato richiesto di sostenere il teatro. Noi dopo Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura 23, abbiamo intenzione di continuare e quindi di non lasciarlo come un unicum o come un'occasione isolata per questa nostra città. La fondazione Donizetti vuole sviluppare ancora altri progetti, essere sempre più viva sia nella città ma sia nei confronti della sua internazionalità, che ormai la città ha questa vocazione, e quindi chiediamo un sostegno ancora ai nostri seguitori di continuare a darci fiducia per poter dare a questa città una veste culturale che sia degna del suo nome. Fondazione Donizetti, che conta in media 900 spettatori a performance e una platea di 6.000 abbonati, ha le idee chiare sui progetti del Teatro 2024. Sicuramente il consolidamento dell'opera donizzettiana, quindi del Donizetti Opera Festival, internazionalità di Bergamo Jets, e soprattutto aumentare anche le repriche nella stagione di prosa, che ha tantissimi abbonati, tantissimi spettatori, che chiedono sempre di più di venire a Donizetti e non siamo riusciti purtroppo ad accontentarli tutti nel 23. Bergamo Next Level, un gioco di squadra per la città del futuro. Il futuro di Bergamo passa dalla formazione, un principio cardine in un'epoca di grandi trasformazioni, un principio necessario per far emergere la qualità delle cose in tempi di grandi quantità di informazioni, novità, eventi, idee, cambiamenti. L'università ha dunque un ruolo centrale ed è per questo che da un'idea di pro-universitate bergomensi torna quest'anno per la quarta edizione della manifestazione Bergamo Next Level. Dal 15 al 22 aprile una serie di incontri con personaggi di spicco porterà ad approfondire quattro macro-trematiche, stili di vita, benessere e salute della persona, economie e società sostenibili, patrimoni culturali e creativi, formazione e nuove professionalità. Il ruolo di pro-universitate è quello di aver avuto l'opportunità di coprogettare con l'università in funzione delle strategie, del piano strategico che l'università di Bergamo ha su progetti che riguardano il futuro ma soprattutto che abbiano ricadute sul nostro territorio con una valorizzazione delle nostre risorse, del mondo del lavoro e del territorio nel senso più ampio. Vedere l'università come luogo di dialogo, come luogo di approfondimento, ma anche come laboratorio culturale nel mettere in pista quelli che sono i progetti che il nostro territorio, la nostra comunità può portare avanti nei prossimi anni. Da segnare in calendario gli incontri con il ministro alla pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, con il ministro all'istruzione Giuseppe Valditara, con la campionessa paralimpica Martina Caironi e con il professor Giuseppe Remuzzi, direttore del Mario Negri. Cosa serve a Bergamo in un momento di grande fermento per passare al next level, cioè per cambiare ulteriormente marcia? La grande sfida è quella di mettere a terra progetti importanti di valorizzazione reciproca del mondo dell'università, ma del nostro territorio, in un grande progetto comune, di sfide comune, quindi di razionalizzare i più importanti obiettivi e avere uno sguardo verso il futuro concreto con grandi progetti. Saliamo a Gandino dopo la sospensione per il maltempo e giunta l'ora della fiera di Gandino di San Giuseppe. La primavera è arrivata e come ogni anno anche la fiera di San Giuseppe a Gandino. Domenica 7 aprile le vie del centro saranno invate da decine di bancarelle. Gli stand dell'oratorio e del gruppo missionario venderanno torte artigianali per sostenere il progetto del laico Silvio Tonelli per la realizzazione di una mensa per i poveri in una baraccopoli in Perù, mentre l'antiquariato e il modernariato faranno bella mostra di sé con oggetti unici. In via Cesare Battisti si terrà l'iniziativa C'è posta per te del gruppo filatelico Val Gandino, dedicata al giorno della memoria e al giorno del ricordo, mentre il Museo della Basilica sarà aperto per visite guidate. Da segnalare anche il concerto pomeridiano delle 15 e 30 in Basilica della Scola Cantorum Luigi Canali e del coro Fortune Cura di Anversa, ospite in Bergamasca. In occasione della fiera, nel Parco Comunale Giuseppe Verdi verrà anche allestita la Cittadella del Gusto, con prodotti a chilometro zero. A far da padrone sarà naturalmente il mais spinato di Gandino, eccellenza tutelata dal gusto inimitabile. Ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti e ci ritroveremo con la pagina sportiva. Ben ritrovati con il notiziario di Seila TV, pagina sportiva. Iniziamo con l'Atalanta che affronterà il Cagliare e per sapere tutto, le ultime da Zingogna, ci colleghiamo con Patrizio Romano. Eccomi, eccomi collegato. Ciao Luca, una buona serata non solo a te, ovviamente a tutto lo staff di Seila TV News, a tutta la redazione ma anche ai nostri telespettatori. Sì, siamo qui pronti a parlare di Atalanta all'interno del salottino di Seila Dea Anteprima che si occupa di quella che sarà la prossima partita di campionato Atalanta in quel di Cagliari, domenica alle 18, altra partita insomma sicuramente ostica perché quando si va sull'isola le partite sono tutte combattute, sono altre battaglie, poi il Cagliari sta lottando col coltello tra i denti per la salvezza e siamo reduci anche insomma dalla delusione non tanto per il risultato perché una sconfitta si può sempre stare quanto per la prestazione di mercoledì nella semifinale andata di Coppa Italia a Firenze contro la Viola, però c'è una partita di ritorno da dover giocare il 24 di aprile a Bergamo, quindi a casa nostra. Allora andiamo a vedere quello che potrebbe essere l'undici titolare domenica alle 18 alla Unipol Domus Arena di Cagliari partendo proprio dall'Atalanta con Carnesecchi tra i pali, Carnesecchi che ha compiuto un intervento prodigioso, più di un intervento ma uno veramente incredibile nella partita di Coppa Italia contro la Fiorentina salvando l'Atalanta e consentendo alla formazione razzura ancora di poter essere in corsa per la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Jim City e Colasi inizia a formare il terzetto difensivo, Zappa Costa, Derone, Ederson e Ruggeri in mediana con Lucman, Commeiners a sostegno di Scamacca. Torna disponibile anche De Ketelarra, staremo a vedere se verrà impiegato durante il match, voglio ricordare l'indisponibilità di Scalvini per infortunio. Come potrebbe rispondere invece il Cagliari di Ragneri? Scuffette tra i pali, Zappa, Mina, Dossena e Ugello a formare la linea difensiva con Macumbue, Sulemana in mediana e Nandez, Gaetano, Luvumbo a sostegno del terminale offensivo La Padula. Se la De Anteprima torna questa sera alle 20, video collegato, ci sarà Daniele Belotti. Al momento è tutto, restituisco la linea a Luca Cavadini. Buona continuazione di serata e buona diretta. Scende in campo anche l'Atalanta Under 23, domenica sera alle 20.45 a Caravaggio per ospitare la Pro Patria nella 35esima partita di campionato di Serie C Girone A. I pergamaschi sono reduci dal pareggio infrasettimanale contro la Triestina, sesti in classifica e stanno lottando per arrivare ai play-off in una posizione vantaggiosa. Pro Patria invece che si trova a metà classifica ed è in cerca di punti per assicurarsi la salvezza diretta. In campo anche l'Albino Leffe, stesso Girone, domenica alle 16.15 in trasferta ospite della Pro Vercelli. I blu celesti arrivano da sei pareggi consecutivi e continuano a navigare in zona centro classifica, una zona tutto sommato tranquilla in vista salvezza. Piemontesi che si trovano con un solo punto di vantaggio sui bergamaschi, una partita che si profila equilibrata e che potrebbe essere l'occasione per allungare la striscia positiva dell'Albino Leffe. Uno sguardo al tempo nelle prossime ore della Bergamasca Trebi Meteo. Vi ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo questo aggiornamento previsionale rinforza l'anticiclone africano sulla nostra penisola anche sulla Lombardia questo weekend a garanzia di un sabato di bel tempo e stabilità e con anche un rialzo delle temperature massime. Anche nella giornata di domenica splenderà il sole e una massa d'aria calda dal nord Africa permetterà un ulteriore rialzo termico. In diverse zone riusciremo a toccare i 25-26 gradi. Ora uno sguardo più in dettaglio cosa ci attenderà su Bergamo. Sabato sarà una bella giornata di piena primavera con cieli sereni terzi e temperature massime un po' ovunque attorno ai 20-23 gradi. La giornata di domenica sarà un po' più caldina per il periodo con temperature massime attorno ai 25-26 gradi. Per il resto ancora tanto sole. Anche nell'avvio della nuova settimana la situazione non è destinata a cambiare. l'anticiclone insisterà fino a lunedì. Poi un possibile cambiamento è atteso proprio tra martedì e mercoledì. Considerata la situazione vi rimando alla nostra per gratuita Trebi Meteo al nostro sito web. Nell'invitarvi a segnalare le vostre notizie scrivendo a redazione chiocciola seilatv.tv vi auguro una buonissima serata e un buon weekend.